Novena in onore a San Giovanni Maria Vienney Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e unica grazia che ti chiedo, è di amarti eternamente. Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni istante, ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi tieni qua giù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. Nonno giorno Farsi guidare dallo Spirito Santo Donaci, Signore, per intercessione di San Giovanni Maria Vienei, di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo e di farci guidare dalla sua dolce presenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalle omelie di San Giovanni Maria Vienei Un cristiano guidato dallo Spirito Santo non fa fatica a lasciare i beni di questo mondo per inseguire i beni del cielo. Egli sa fare la differenza. Chi è guidato dallo Spirito Santo ha idee rete. Ecco perché ci sono tanti ignoranti che la sanno più lunga dei sapienti. Quando si è guidati da un Dio di forza e di luce, non si può sbagliare. Lo Spirito Santo è luce e forza. È lo Spirito Santo che ci fa distinguere il vero dal falso e il bene dal male. Lo Spirito Santo è come quelle lenti che ingrandiscono gli oggetti. Ci fa vedere il bene e il male ingranditi. Con l'aiuto dello Spirito Santo, tutto viene ingrandito. Sia le azioni apparentemente insignificanti, fatte per amore di Dio, che i minimi errori. Con le sue lenti, un orologiaio distingue i più piccoli ingranaggi di un orologio. Allo stesso modo noi, illuminati dallo Spirito Santo, possiamo distinguere tutti i dettagli della nostra povera vita. In quest'ottica, le più piccole imperfezioni sembrano enormi e i più piccoli peccati fanno orrore. Il Buon Dio, mandandoci lo Spirito Santo, si è comportato con noi come un grande re che incaricasse il suo ministro di guidare uno dei suoi sudditi, dicendoli Accompagnerai quest'uomo ovunque e lo ricondurrai a me sano e salvo. Che bello essere accompagnati dallo Spirito Santo. È una buona guida, lui. E pensare che ci sono persone che non ne vogliono sapere di seguirlo. Se chiedessimo ai danati perché vi trovate all'inferno, risponderebbero perché abbiamo opposto resistenza allo Spirito Santo. Al contrario, se dicessimo ai santi Chi si lascia guidare dallo Spirito Santo prova dentro di sé un senso di felicità che investe tutti gli aspetti della sua vita. Il cattivo cristiano, invece, è come se rotolasse su un terreno di spine e di pietre. Senza lo Spirito Santo siamo come un sasso. Provate a prendere in una mano una spugna imbevuta d'acqua e nell'altra un ciotolo. Poi strizzateli con la stessa forza. Dal ciotolo non uscirà nulla. Dalla spugna, al contrario, uscirà acqua in abbondanza. La spugna è l'anima piena di Spirito Santo mentre il sasso è il cuore duro e freddo nel quale non abita lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci guida come una madre guida il filoletto di due anni tenendolo per mano o come una persona che vede guida un cieco. Ogni mattina bisognerebbe dire Mio Dio, mandami il tuo Spirito possa Egli farmi capire chi sono io e chi sei tu. Un'anima che possiede lo Spirito Santo gusta la dolcezza della preghiera tanto che il tempo che vi dedica non sembra mai abbastanza. Essa sente che Dio le è sempre vicino. La sua santa presenza non l'abbandona mai. Preghiera conclusiva Il santo curato d'Ars era solito dire che nella preghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole. Eleviamo quindi con fiducia la nostra preghiera a Dio dicendo insieme Ascoltaci, oh Signore. Perché nella Chiesa si riscopra il profondo valore della confessione e della direzione spirituale per un graduale progresso nella vita cristiana preghiamo Ascoltaci, oh Signore. Perché l'Eucaristia rinnovata per la remissione dei peccati e adorata come presenza reale di Cristo Gesù sostenga il cammino di fede e di amore della nostra comunità parocchiale e di ciascuno di noi preghiamo Ascoltaci, oh Signore. Perché i sacerdoti vivano con amore il ministero al quale sono stati chiamati e con la grazia dei sacramenti santifichino il popolo loro affidato. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché il Signore conceda alla sua Chiesa il dono di numerose e sante vocazioni sacerdotali che seguendo l'esempio del santo curato Dars siano instancabili nel dono di sé a servizio di Dio e dei fratelli preghiamo Ascoltaci, oh Signore. Con spirito filiale rivolgiamoci a Dio nostro Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indure in tentazione ma liberaci dal male. Amen. O Dio onnipotente e misericordioso che in San Giovanni Maria Vienney ci hai offerto un mirabile pastore pienamente consacrato al servizio del tuo popolo per la sua intercessione e il suo esempio fa che dedichiamo la nostra vita per guadagnare a Cristo i fratelli e godere insieme con loro la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. San Giovanni Maria Vienney prega per noi.